Anticipazioni Beautiful, giovedì 9 maggio 2019 Steffi è stufa di ascoltare le parole di Bill e precisa che vuole essere lasciata in pace e decidere della sua vita. Lui dice che si preoccupa proprio per questo, non può passare la sua intera esistenza a correre dietro ad un uomo eternamente indeciso tra due fuochi. Non è giusto. Nel frattempo un messaggio di Ridge annuncia il successo della sfilata. Bill invece riceve un sms da parte del suo braccio destro con delle foto che sembrano incriminare Liam. Lei fiera, gli mostra i complimenti che la sua rivale sta ricevendo dalla stampa internazionale, mentre lui le fa vedere i momenti intimi catturati da Justin. Steffi guarda le foto ma non sembra scomodarsi troppo. Sa che lui è in grado di macchinare di tutto e di più. Perché dovrebbe crederli questa volta? Spencer però le fa notare che le foto non sono state ritoccate. Liam indossa l'abito con il quale è uscito di casa la mattina. Bill la prega di prestargli ascolto e le chiede di recarsi alla Forrester e di lasciare l'altro per rifarsi una vita con lui. Quindi le rinnova la proposta di matrimonio, cosa che lei però rifiuta. Bill insiste, deve accettarlo come compagno. Lei però non smette di pensare alle immagini di suo marito tra le braccia dell'altra e afferma che intende investigare. Vuole capire che sta succedendo e soprattutto a chi dà ritorto e a chi ragione. Bill è molto dispiaciuto, la connessione che lega Hoppe e Liam è qualcosa che nessuno può spezzare. La Forrester farita esce di casa con le lacrime agli occhi. Bill intanto torna alla Spencer per ringraziare il suo braccio destro. È certo che la ragazza veda qualcosa di molto compromettente. Emma intanto perde le staffe e quando incontra Zoe le chiede di lasciare lei e il suo amato in pace. Ridge si complimenta con Zoe per essersi improvvisata modella e soprattutto per aver salvato la sfilata. Xander interrompe il suo discorso spiegando che la ragazza è molto pericolosa. Lo stilista però non sembra curarsi delle critiche che gli muove e gli fa capire che senza la prontezza di riflessi della nuova arrivata all'evento di Hoppe sarebbe stato un disastro. Thor interviene dando alla giovane dell'eroina. Thor interviene dando alla giovane dell'eroina. sentit a un ottimo